Quasi improvvisamente la Roma sembra aver risolto il problema della punta in attesa sempre del ritorno di Tami Abraham e con Belotti che ha iniziato bene la stagione. Sarà Sardar Azmun l'attaccante che cercava Murigno e di cui aveva bisogno. L'iraniano che il prossimo 1 gennaio compirà 29 anni si trasferisce infatti alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni più sembra bonus. Quindi un'altra operazione vantaggiosa nei termini per il club giallorosso dopo per esempio quella di Renato Sanchez che intanto sembra già essersi infortunato ma se dovesse giocare poco potrebbe non essere riscattato o addirittura essere riscattato con uno sconto ed anche quella di Paredes preso a soli 2 milioni e mezzo senza contare a war gratis. Ma quello che arriva è purtroppo un altro giocatore con un po' di infortuni muscolari alle spalle infatti nelle ultime stagioni in particolare in Bundesliga non ha giocato moltissimo. A gennaio 2022 infatti si era trasferito al Bayer Leverkusen da cui appunto è stato ceduto alla Roma e a dir la verità non ha neanche segnato tanto nelle ultime stagioni. Nelle ultime tre in particolare non ha messo a segno tanti gol e praticamente dai tempi dello Zenit che Azmun non è un attaccante da più di 10 gol a stagione. Il che non significa che abbia smesso definitivamente di esserlo ma in Bundesliga ha avuto qualche difficoltà vedremo nel campionato italiano. Ma per caratteristiche è sicuramente un attaccante giusto per il gioco della Roma. Azmuna infatti tra i pregi e tra le caratteristiche ha sicuramente una qualità spiccata. È molto difficile togliergli il pallone. Tra dribbling secchi e conduzione di palla mai particolarmente rapida, mai particolarmente scattante ma comunque efficace oltre che nel dialogo con i compagni è davvero difficile sradicargli il pallone e quindi è un giocatore che ti fa salire la squadra e facilita anche la manovra offensiva. Fa salire la squadra perché può essere servito anche sul lungo o nello spazio ma appunto riuscendo a trattenere bene il pallone può dare tempo ai giocatori, ai suoi compagni di salire il campo per andare ad accompagnarlo nell'azione d'attacco. Giocatore prevalentemente se non esclusivamente da palla a terra, da palla bassa che può essere servito appunto come dicevo nello spazio, in profondità ma viene anche molto basso a dialogare con i centrocampisti, a prendersi il pallone e quindi a partecipare alla manovra. In questo senso forse potrebbe anche non essercene tanto bisogno visto la presenza di squadra oltre che di Aguar anche naturalmente di Paolo Di Bala. Quindi un'operazione dal punto di vista economico sicuramente vantaggiosa anche se non parliamo più di un giovane. Dal punto di vista tecnico non esaltante entusiasmante ma è un attaccante con una buonissima esperienza parliamo anche di 23 presenze in Champions League e 18 in Europa League oltre a quelle di qualificazione dal punto di vista tecnico è un'operazione sicuramente molto valida ma come sempre dopo il calciomercato c'è il calcio e il campo quindi adesso starà a Murigno integrare Azmun nella tattica di squadra e con il resto dei compagni valorizzandolo e facendolo rendere al massimo in termini di gol ma anche di assist e comunque in termini di gioco, di prestazioni. Tra l'altro con una Roma che ha confermato le impressioni iniziali con la prima partita contro la Salernitana e cioè giocando più palloni facendo più possesso Azmun potrebbe e dovrebbe essere coinvolto più anche che nel Bayer Leverkusen nel gioco di squadra e quindi sarà importante farlo integrare bene ma ci saranno tante opportunità sulla carta per sfruttarlo e sfruttare le sue doti tecniche. Grazie.